Ciao Simone, cosa mi racconti? Ehi Gianluca, ciao! Senti, ma sai cosa mi sono regalato per il mio compleanno? Cosa? Un giradischi Grande! Ma che giradischi? Certo, certo, guarda, ti mando una foto subito, ce l'ho nel telefono Dimmi se ti è arrivata Adesso guardo... Oh mamma! Bello, vero? Ma Simone, ti rendi conto che quel giradischi non ha una puntina, ma un aratro? In che senso? Se la testina, in particolare la puntina, non è fatta bene, in realtà non legge i dischi, li consuma Ho capito, però sai, io non volevo spendere troppo Guarda, mi è appena arrivato un impianto con giradischi da 189 euro Lo tiro fuori dalla scatola e ti mostro quelle che considero la testina e la puntina da minimo sindacale E' come qui il solito, fuori dalle scatole, in ginocchio, se lo so, la testa spesso sarà fuori Ma lo scatolone di questo Wooden Wireless Turn Table Converter Questo sistema Hi-Fi che si basa su un giradischi e con dei diffusori con la finitura in legno Che hanno anche il wireless, ovvero accettano connessioni Bluetooth Che, lo si vede sul bordo superiore Nota che comunque possiamo mandare l'uscita verso un altro impianto Hi-Fi Abbiamo la testina audio-tecnica, cosa non banale E in più, lo vedete qui dietro, il simbolino della forma d'onda Possiamo andare a convertire i nostri venili La scatola sembra già parzialmente aperta da un lato E insomma, vado a tagliare proprio da quella parte Ok Abbiamo la scatola nella scatola Effetto matrioska Vediamo se riesco a tirare fuori tutto senza fare danni Che è la cosa sempre più difficile Ok, abbiamo una scatola Voilà Due scatole Una più grande e una più piccola E quindi si ricomincia L'alto e il basso è indicato Assolutamente Qui almeno c'è un'etichetta Finalmente cominciamo a vedere un po' di imballo E sì, qui c'è proprio il giradischi Abbiamo l'alimentatore Che è di tipo switching Riesco a leggere i dati di targa 1,5 A 15 V No, 15 V a 3 A Quindi in 45 W Quindi l'alimentatore switching Abbiamo nella busta Suppongo un po' di manualistica Che è in varie lingue Dove udite, udite C'è anche l'italiano Installazione del software Collegamento dei diffusori Si fa sempre piacere trovare la manualistica in italiano Troviamo i cavetti RCA Di qualità economica Connessione USB di tipo A, B Una cinghia Un adattatore per il 45 giri in plastica E una sfera metallica Poi vedremo Poi c'è anche un cd con il software per la cattura dell'audio Ma vediamo un po' questo giradischi È molto leggero a sensazione Sì, effettivamente sì Vediamo tutta la busta intorno Eccolo qui Però la testina audio tecnica Non so se la vedete qui In trasparenza c'è Ma poi lo vediamo dopo Quindi per adesso Sono in inquadratura Questa situazione Ma c'è un altro scatolo Che dovrebbero essere Di logica I diffusori Anche qui c'è giustamente Dell'imballo Ed eccoli i diffusori Come li prendo? Ok Un diffusore Vedo con il cavetto Già economico Già comunque collegato All'interno Noto con piacere un dettaglio Ne parlavo Nel video dedicato Diffusori della Yamaha L'impianto quello da 300 euro Che vi rimetto qui sopra Che quando trovo i piedini già montati È una cosa che comunque mi fa piacere È un minimo di attenzione Invece che fornire i classici adesivi Che poi magari uno Non li posiziona Bene Eccoli qui Questa finitura Il legno Ma dopo vedremo Meglio Le griglie sono rimuovibili? Penso di sì Ma belle e dure Ok Le tele para polvere È effettivamente Con un incastro durissimo Ma se riusciamo a vedere La struttura Ha due vie Ma adesso sì Cambiamo inquadratura Andiamo a vedere tutto Più da vicino Primo dettaglio Voglio farvi vedere È il sotto Del giradischi Che si nota Un particolare interessante Che c'è un grosso perno Di ottone Su cui potrebbe appunto Ruotare quello che è Il piatto del giradischi Cosa che si apprezzano Tre punti d'appoggio Cosa vicinale Anche se i piedi Sono abbastanza rigidi Quindi Non andranno ad assorbire Le liberazioni E non sono regolabili Quindi abbiamo tra noi Un ripiano d'appoggio Che sia perfettamente In piano E tutto il box E poi vedremo In dettaglio Che contiene Tutta l'elettronica Ma adesso passiamo Al sopra Ecco la vista Dall'alto Dove si riesce A notare Il marchettino Digit Now Che è la marca La cappa Che è di materiale Secondo me Non è Plexicas È più plastica Infatti È già graffiata Arriva già graffiata Di serie E attenzione Che la maggior parte Delle cappe Si blocca In questo modo In questa posizione Sui giradischi Ben più costosi Qui la cerniera È libera Quindi si apre Diciamo Di circa 120 gradi Verso il retro Quindi Se voi andate A collocare Con una parete Qui dietro Attenzione Servirà Un gommino Un feltrino O sulla cappa O sulla parete Altrimenti Ci sbatterete E andrete A rovinare Rivoliamo Questo imballo Sulle istruzioni Dice che dobbiamo Montare Quelle praticamente Che sono La cinghia E questa sferetta Ma Io ho già sbirciato Abbiamo Il feltrino Ottimo Un piatto In materiale Metallico È bello Pesante Non è male E qui sotto Vedete Abbiamo La parte Che ruota Con la cinghia Già montata E se uno volesse Andare Prendere E montare Quella sfera Quindi abbiamo Una seconda Cinghia di cambio E la sfera Se abbiamo capito Dovrebbe essere Collocato In quel pozzetto Di ottone Che abbiamo Già visto Sul retro Bello Già ingrassato Con il lubrificante Ma siccome È già presente Non dobbiamo farlo Cambiare le cinghie È semplice Perché va messo Su questo perno Che è il perno Del motore Va messa Tutto intorno E dovremo Soltanto Accertarci Che sia sempre Perfettamente Piatta Ovvero Non vada mai A incrociarsi Se dopo qualche giro Effettivamente La vediamo Sempre scorrere Perfettamente È a posto Ma adesso Passiamo a parlare Del braccio In effetti Una caratteristica Più interessante Di questo Impiantino È che il braccio Il geladischi Sì è di materiale Plastico Però È ben realizzato E soprattutto Al contrapeso Quindi vuol dire Che la testina È già molto interessante Di serie Che l'Audio Tecnica T3600 euro Una testina Che da solo Vale 20-30 euro Quindi Il 10% Di tutto questo Impiantino Però comunque Possiamo sostituirla Con una Di migliore qualità Andando ad aggiustare Appunto Il bilanciamento Del braccio Avendo il contrapeso Regolabile Attenzione Non c'è l'anti-skating Comunque Sulla istruzione Dice che Di serie È già stato regolato Quindi Andiamo a Rimuovere La fascetta Che lo blocca Andiamo a togliere Il coperchio Della puntina Mi armo Della mia Bilancina De precisione E vado A fare Un controllo Ora c'è a dire Che la T3600L È una testina Un po' strana Perché non si trova Sul sito dell'Audio Tecnica Qual è La tracking force La forza Di tracciamento Da dover impostare Però si trova In generale Sui negozi Online Vedi su questa pagina È dichiarata Da 2,5 A 3,5 Ed effettivamente Qua sopra Lo vedo Grosso modo Impostato Su 2,4 Ma andiamo A verificarlo Questo acceso Si lo spento in realtà Adesso lo riaccendiamo Aspettiamo che vada a 0 E invece no Non ci siamo La forza come vedete Eccessiva È 4,4 grammi Quindi adesso Rifaccio il bilanciamento E poi lo porto Al peso giusto Che direi che sia Una via di mezzo Tra il minimo e il massimo Quindi tra 2,5 E 3,5 Lo imposto a 3 Come potete vedere Ho letteralmente Paccato il grammo Una trekking force Di esattamente 3 grammi Però non è facile Raggiungere questo valore A meno di avere Una bilancina Vi spiego il perché Il punto è che Il contrappeso Quando è fatto bene È composto da due parti Da due Diciamo Ghiere Che possono muoversi In maniera separata In questo modo La ghiera graduata Quando facciamo Il bilanciamento Orizzontale Del braccio Che quindi deve rimanere Perfettamente Parallelo Al piano stesso Gira dischi Ce ne freghiamo Di quella ghiera Poi tenendo fermo La parte posteriore Rotiamo Quella graduata Mettendola a zero E poi Rotandoli insieme Vi rimando al mio video Sul Technics Qui sopra In cui lo spiego Andiamo a scegliere Effettivamente Quanto peso Andiamo a applicare Allo stilo Qui essendo Già graduato Il contrappeso Il valore Se ne va a far bedrire Infatti Noi siamo A 0,75 Come valore Ma fatto vedere Con la bilancina Siamo in realtà Con una pressione Applicata Di 3 grammi Quindi con questo Gira dischi Hai noi La bilancina Assolutamente Obbligatoria Perché La puntina Sì di qualità Avrò comunque Uno stilo Conico Che comunque Ha bisogno Abbiamo visto Di un certo peso Altre testine Chiedono 1,7 1,8 Qui chiedono 3 grammi Quindi Se non andiamo A regolare bene il peso Avremo L'effetto Aratro Di cui vi parlavo Già nell'intro Ma adesso andiamo a guardare Un po' dietro Sul retro Partendo da sinistra Andando verso destra Abbiamo anzitutto I morsetti Per collegare i diffusori Sono di quelli Tipo molla Non comodissimi Ma insomma Questo è il cavo Questo è il cavo Che viene fornito Con i diffusori La cui sezione Ci sta arrivando Forse anche troppo luce La vedete Soprattutto accanto C'è il morsetto Della massa Perché Importante Vedete questo Selettore Permette Di decidere Se questi RCA Tinono fuori Un segnale Non preamplificato Quindi andrà collegato Su un preamplificatore Per giradischi O un amplificatore Interrato Con l'ingresso per giradischi Dove serve appunto I due RCA E il connettore Per la massa Oppure Un'uscita di linea Quindi possiamo andare Verso un qualsiasi Amplificatore Come quello dell'impianto Già citato Da 300 euro In cui accetta Un ingresso di linea Poi abbiamo L'ingresso per l'alimentazione De 15 volt L'uscita Verso il pc Che permette In questo caso Di registrare Il segnale Appunto per convertire I nostri vinili In mp3 Da quest'altra parte L'interruttore Per accendere E spegnere Mi spiace un po' La posizione Avrei preferito Sul davanti Qui poi Se abbiamo Il muro Del mobile Il retro del mobile Questa parte Sarà un po' scomodo E i morsetti Giustamente Per il diffusore Di destra Ma adesso Andiamo proprio A dare uno sguardo Ai diffusori Eh sì Sto sollevando Il diffusore Utilizzando Le unghie Dei mignoli Che non è un buon segno Diffusore molto leggero Segno che qui dietro C'è un magnete Che farebbe anche Ridere i polli Tutto laminato Unestamente anche Laminato In maniera malvagia L'amplificatore Interrato Nel gilio dischi Ha una potenza Dichiarata Di 18 watt Per due Quindi comunque Un diffusore Piccolino Poi dopo Andremo a ascoltare Le tele Le tele Parapolvere Che ho visto Prima Sono molto Difficile Da togliere Perché i perni Li vedete Sono belli Profondi Quindi vanno ben dentro E non mi piace Che vedete In realtà L'apertura È soltanto In corrispondenza Di driver Quindi c'è Del trucciolato Che va un po' A chiudere tutto Quindi per me Da utilizzare Solo scusamente Se avete Dei bimbi O dei gatti Ma senza neanche Tante preoccupazioni Che vedete Il twitter Ha un accenno Di guida All'onda Quindi fa Una protezione Quindi solo se avete I gatti Che vanno magari A farsi lunghi E qui Andate a utilizzare Queste griglie Per il resto Mobile molto semplice Abbiamo già visto Prima durante La fase fuori Dalle scatole Che il cavo È direttamente Fiato all'interno E ha uno sbocco Reflex Strano Perché è molto Molto profondo E arriva praticamente A sbattere Quasi con quello Che è Il retro Del twitter Forse riesco a fare Vedete Eccolo anche In leggero Controlluce Adesso è arrivato Il momento Di mettere Tutto insieme E vedere come funziona Anche la parte Wireless Pronti Il cavo D'alimentazione Collegato Tra l'altro Il cavo D'alimentazione Un po' troppo Cortino Per i miei gusti Serve assolutamente Una prolunga Diffusori collegati Andiamo ad accendere Appunto Con il tasto Ben nascosto Dietro Vedete che Appena si accende C'è questa Bella lucina Blu Intorno A monopola Il volume In plastica E si accende La lucina rossa In corrispondenza Di fono Ma io voglio andare Sul bluetooth Quindi premo mode E bluetooth Inizia a lampeggiare Prendo il mio cellulare Vado su Ricerca Ed ecco che vede La voce Turn table Gira rischi Andiamo a collegarci Richiesta Associazione Associa Si è sentito Uno schiocco E adesso La luce Su bluetooth Non è più Lampeggiante Veloce Ma fa due lampeggi Rapidi Alternati Andiamo a prendere La mia solita Musica Si funziona Tutto bene Il controllo Del volume Il play pause Adesso per me È arrivato il momento Di fare Un bel rodaggio Specialmente La parte che riguarda Il giradischi Cambio distanza In casa bocci Perché ho deciso Di fare Il rodaggio Nella mia camera Da letto Innanzitutto perché Mia moglie Può sfruttare il bluetooth Bluetooth che funziona Benissimo Anche se ci allontaniamo Continua a funzionare E quindi mia moglie Si può godere Le sue playlist Su spotify Poi seconda cosa Il vinile Sapete quando gira E crea quell'atmosfera Ci siamo capiti Si scherza Comunque effettivamente Anche i giradischi Funzionano molto bene All'avvio automatico Quindi Il braccio inizia Il piatto scusate Inizia a ruotare Appena portiamo Il braccio Verso il centro E c'è anche Lo stop automatico Quindi in realtà Il disco si ferma Appena arriviamo Vicino l'etichetta Senza far andare La puntina Sull'etichetta Che sappiamo Una cosa Poco piacevole E il suono Com'è? Beh Per farvelo capire Iniziamo con Un ascolto di prova Dei Luz Quindi del sano Buon rock Vecchi scuola Per farvelo capire 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 Come sempre ragazzi vi ricordo che l'ascolto di prova è un gioco Perché avete ascoltato più che questo impianto Avete ascoltato il mio microfono Quello che è il mio ambiente E soprattutto quello che è il vostro sistema di produzione Mati sta utilizzando adesso Gli speakerini integrati dentro un tablet Uno smartphone Ma vediamo in dettaglio com'è il suono di questo impianto Digit Now Con girerischi Innanzitutto potenza 8 Mi fermo 8 è che in realtà il volume c'è Si riesce a litigare con i vicini Ma quando si supera insomma il 60% del volume Arriva la distorsione Tutto si impasta Quindi insomma il volume si ma senza esagerare Bassi 6 è che il basso è quasi incredibile da queste scatolette Ma diventa subito gonfio Tende quindi a debordare A nascondere la gamma media e la gamma alta Quindi 6 non di più Media anche qui 6 Senza infamia Senza lode Quando ascoltiamo dei brani che sono molto mediosi Come gamma di frequenze Risulta piacevole Gli alti invece 5 Perché quel twitter è un vero coltello Tende ad essere pungente Quindi quando abbiamo dei brani con frequenze alte Diventa un po' stancante Per questo il dettaglio ci fermiamo a 5 Perché con basso debordante e con alto pungente Dettaglio Siamo purtroppo sotto la sufficienza Carattere 5 E' un impianto E' un impianto Do cui insomma Iniziare a ascoltare i vinili Quindi carattere Non possiamo andare Ad arrivare alla sufficienza Ma insomma per capire Cosa mi è piaciuto di questo impianto Prima cosa è questa testina Questa audio tecnica A T3600L E qui mi riallaccio all'intro In cui ringrazio Simone Tarca Che è stato al gioco Il discorso dell'aratro La testina con il suo stilo La sua puntina Il suo fonorivelatore E' qualcosa che va comunque A creare un attrito Su quello che è il nostro vinile Attrito che ascolto dopo ascolto Andrà a consumarlo E quindi peggiorare Quello che è il segnale sonoro Inciso sul nostro vinile Quindi avere una buona puntina Una puntina che posso anche sosprire Con il giusto peso applicato E' una cosa fondamentale Quindi tanti di voi che mi chiedono A Gianluca Ma voglio spendere poco Che ci riesco a prendere Senza andare in dettaglio Almeno cercate che sulla testina Ci sia il marchio di un'azienda Nota come audio tecnica Questa è la garanzia Che almeno una testina Da 20 euro Che non vada a danneggiare La collezione di vinili Che state iniziando a costruire Vada a farsi benedire Quindi brava Dice Tenau Che ha messo questo tipo di testina Seconda cosa che mi piace E' l'estetica Ammettetelo Perché volete il giradischi dentro casa? Perché è bello E' piacevole Quando ci sono gli amici dentro casa Guarda ho il giradischi Guarda che l'ultimo vinile Mi sono comprato E' una cosa appagante Quindi questa finitura legno E' tutto laminato Vente ragazzi E' piacevole Insieme l'estetica Si promossa Mi piace il fatto Che ci sia il bluetooth Un bluetooth Che funziona bene Che tiene bene il segnale Che si aggancia subito Appena accendiamo Tutto l'impianto Insomma Ci permette di goderci L'ascolto Mentre magari Stiamo costruendo La nostra collezione Di vinili Perché ci compriamo Questo impiantino Compriamo due vinili E se ci fosse Solo il giradischi Insomma Ascolti sempre Solo quei due vinili Invece Il bluetooth Metti su Non so Spotify Metti su Radio Freccia In streaming Insomma Ti puoi comunque Godere l'ascolto Non solo Con i vinili Quarta cosa E' comunque Godibile Si è limitato Ci sono molti compromessi Le vediamo tra poco Ma comunque Non è che sia un ascolto No Ti metti su Metti su un vinile E ti godi Comunque La musica Ultima cosa Che poi forse Quella più importante Il prezzo Trovate il link Di iscrizione Il prezzo Viaggia tra 189 E 199 Ad oggi Che sto registrando Sta a 189 euro E per 189 euro Considerando che ci sono Quei 20 euro Di testina C'è tanto C'è il giradischi C'è il bluetooth C'è l'amplificatore Ci sono due diffusori Ci sono comunque Tutte le connessioni Ma per mettere Dei diffusori migliori O collegarci A un altro impianto Hi-Fi Quindi insomma Il prezzo effettivamente È ottico Ma Cos'è che Non mi è piaciuto Allora innanzitutto C'è a dirlo I diffusori Questi diffusori Sono secondo me Il compromesso Peggiore Che hanno inserito In questo impianto Li senti Quando li prendi in mano Sono troppo leggeri Driver Non ben studiati Forse anche Proprio un progetto Fatto pensando Soltanto A risparmio Secondo me Se uno prende L'impianto Quello con i diffusori L'on-poo O meglio I diffusori L'on-poo Ve li rimetto Qui sopra E li colleghi Qui Già cambia tutto Dal giorno Alla notte Seconda cosa Che mi spiace Sì Ottimo Avere la testina Audio-tecnica Ma innanzitutto Il contrappeso È fatto male Non ha la due parti Che sono fondamentali Per andare a fare Utilizzando il contrappeso Un Applicare un peso Bene Messo Sopra Quindi diventa Indispensabile La bilancina Che costa poco Però insomma Quegli altri 20 euro Dobbiamo andare a spendere Solo per la bilancina E dà anche fastidio Le istruzioni Perché le istruzioni Dicono Che innanzitutto Alcune cose Dovremmo montarle Come la cinghia E quella sfera Invece no Sono già montate Ma poi ci dicono Guarda Che il braccio È stato già regolato Invece no Quando mi dici Che è regolato Poi vedo Che ha più di 4 grammi Applicati E quello È sempre Il famoso Effetto Aratro Che abbiamo detto Più volte Quindi questi sono I due problemi Più gravi Poi c'è anche a dire Che per risparmiare Non hanno messo Lenti skating Quindi questo Già potrebbe essere Un problema Hanno messo Delle cerniere Della cappa Molto economiche Che in realtà Sbattono contro La parete dietro Perché non si fermano Quando sta in verticale Come dovrevesse Hanno messo Il cavo Alimentazione Troppo corto Ma per modire Anche prima Sono i cavi In generale I cavi diffusori Sono davvero Leggerissimi E saldati dentro Quindi insestituibile E infine Questo ma è un dettaglio Ma l'interruttore Messo dietro È scomodissimo Dovrebbe essere Davanti o sopra In modo che Senza andarlo a cercare Con la mano dietro Lo trovo subito Ma vi ripeto Se volete Iniziare A costruire La vostra Collezione di vinili E quindi investire Prima nei vinili Che purtroppo costano cari 20-24 euro 28 euro Ognuno E dite Ok Sull'impianto Per adesso Voglio risparmiare Ma ragazzi Se iniziate A appassionarvi Il vinile Non potete Risparmiare Su quella Che la testina E la testina Di cui vi ho parlato Oggi Questa T3600L Per me È il minimo Sindacale Per ascoltare Un vinile E questo infatti Era il titolo Del video E con questo ragazzi Vi saluto Ciao a tutti E al prossimo video E al prossimo video E al prossimo video